ciao a tutti sono Terinati benvenuti su un altro video finalmente siamo più o meno cinque giorni prima di Arnold Classic 2024 e finalmente sto facendo secondo me i miei primi cinque su categoria open a questi sono il mio pensiero lasciate i vostri pensieri sotto commento se voi non siete d'accordo siete d'accordo però prima di iniziare questo video perché mi avete chiesto in tantissimi se io streamerò questo evento in diretta eccetera sì farò qualcosa in diretta di sicuro magari guardiamo insieme però Arnold Classic questo anno è gratis per tutti quindi potete andare sul loro sito registratevi e così voi vedete tutti gli orari eccetera potete guardare questo Arnold Classic di questo anno gratuitamente non è a pagamento questo anno perché la cosa ho capito è che Arnold ha provato di avere un dacodo per il prezzo per diventare un po' più piccolo però l'agenzia che era su di questo come si dice evento live streaming loro non voleva quindi ha tolto tutto quindi grazie a Arnold abbiamo Arnold Classic gratis questo anno allora iniziamo subito io faccio i miei primi cinque perché secondo me dopo i cinque i posti sono aperti per tutti non si sa anche i primi cinque quattro secondo me può essere cambiato uno l'altro quindi io inizio subito in posizione quinto per me secondo me sarà Ross MD che è Macello De Angelis secondo me Macello De Angelis arriva al quinto posto ah per semplice motivo quello ragazzo ha una bella struttura eccetera però secondo me sui muscoli non sono ancora maturo abbastanza anche secondo me ha bisogno di ancora un po' di massa questo mio pensiero a me piace tantissimo per il suo fisico perché è estetico quindi mi piace molto però secondo me qua ci sono alcuni grandi nomi che penso sono ancora sopra di lui secondo me lo metto sul quinto posto poi posto quattro l'ho morto James Halashid non so se lo dico bene il suo nome James Halashid ha avuto più o meno un anno e mezzo per mettere più massa perché nessuno ha messo in dubbio James Halashid su possibilità per diventare magari un campione un giorno però suo unico critico era che lui mancava la massa eccetera quindi secondo me da cosa sto vedendo lui ha messo un po' di massa in punti giusti sono abbastanza per vincere questa gara? non credo però secondo me lui arriva su quattro posizioni però quattro posizioni e cinque posizioni come ho detto secondo me può essere cambiati vedremo su finale poi terza posizione io lo metto a Raffaele Brandao Raffaele Brandao come vedete sui video foto Raffaele Brandao si è aumentato anche la massa moltissima anche lui ha avuto un po' di pausa eccetera e io da cosa vedo qua io lo vedo molto molto bene ha un fisico che secondo me poteva anche vincere però per gli altri due big che sono avanti a lui secondo me no quindi io lo metto su terza posizione Raffaele Brandao poi su mia seconda posizione lo so che tanti di voi mi risultate per questa cosa però io lo metto secondo posizione Samson Dauda Samson Dauda lo so che ha vinto l'anno scorso però ha vinto senza Hadi in gara quindi io metto Samson Dauda come secondo perché secondo me Adi Chupan è ancora un pelino avanti di lui sulla come si dice la massa di muscoli perché Adi Chupan secondo me è più pieno essendo che è più basso magari però è più pieno eccetera anche Adi Chupan è appena stato un... ha vinto Mister Olimpia due anni fa quindi non credo che così male per non vincere questo Arnold Classic anche quando ha perso il suo titolo l'anno scorso tanti come me mi hanno detto è stato diribato lui poteva ancora vincere quindi se lui a Mister Olimpia abbiamo avuto questi 50-50 poteva vincere secondo me vince Arnold Classic e Samson Dauda secondo perché come voi ben sapete Adi Chupan sarà il primo secondo me vince perché secondo me è ancora avanti di tutti però un pochettino ancora più avanti di Samson Dauda ditemi la vostra, non voglio parlare troppo su questo video sui commenti sotto cosa ne pensate di MioPimi5 se siete d'accordo o cosa... cambiate... cambiate... chiamarretevi... ehi mio italiano comunque cosa fate di diverso su MioPimi5 quindi ci vediamo nel prossimo video sono Terinati ci vediamo nel prossimo video let's go!